L'obiettivo era di vincere questa partita dopo una sconfitta a Verona, era un po' duro perché abbiamo perso 3 a 2, una gara era una gara un po' così, non bene, però oggi era importante di vincere e anche di prepararsi prima alla partita del derby contro la Lazio. La partita è quella di oggi che è cambiata, primo tempo più aggressivo con una Roma che ha prestato anche molto alto, al secondo tempo magari qualche errore soprattutto in fase di impostazione negli ultimi 20 metri, però come ha detto anche Giuseppe Morigno questa squadra continua a lottare anche se magari cala un po' di intensità perché questo è lo spirito che deve avere in tutte le partite. Anche se abbiamo un po' mollato il secondo tempo però abbiamo controllato la partita defensivamente, non è sempre che dobbiamo controllare la partita con la pala, era un momento che tutti noi volevamo giocare con la pala, però Udinese è una bella squadra fisicamente forte, loro ci hanno fatto difendere per noi e così abbiamo fatto il migliore possibile di essere sicuri dietro. Anche perché è sempre meglio vincere considerando che questa è una squadra che ha ampi margini di crescita? C'è sempre spazio di migliorare, anche noi crediamo che possiamo fare meglio, andiamo avanti passo dopo passo e spero che alla fine della stagione possiamo parlare che abbiamo fatto il meglio, che cosa abbiamo fatto bene, che cosa abbiamo fatto male. C'è sempre un spazio di migliorare, c'è sempre qualcosa di fare meglio, allora spero che con questa squadra possiamo fare più che abbiamo fatto l'anno scorso.